Le foil è molto di più di una tavola da surf, è l'incarnazione dell'innovazione, della tecnologia e dell'avventura, tutto racchiuso in un unico straordinario pezzo di attrezzatura. Immaginate di poter soccare l'acqua in modo fluido e silenzioso, senza dover aspettare le onde perfette o dipendere dal vento. Con le foil questa visione diventa una realtà. Un motore elettrico posizionato sotto la tavola vi solleverà sull'acqua in un'elegante danza tra cielo e mare. Il cuore delle foil è il foil, una speciale ala subacquea che crea portanza quando l'acqua scorre su di essa. Questa permette alla tavola di sollevarsi sopra l'acqua e planare in modo fluido. Il pilota controlla l'altezza e la velocità utilizzando un telecomando wireless che regola la potenza del motore. Ma le foil è molto di più di un semplice mezzo per esplorare le onde e un'opportunità per abbracciare l'ambiente marino in modo sostenibile, eliminando l'inquinamento acustico e le emissioni di gas. È un'opportunità per scoprire luoghi straordinari ed esplorare nuovi orizzonti e connettersi con la bellezza della natura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.